Buongiorno, benvenuti negli studi di Bologna. Torna dal 14 al 16 ottobre a Bologna Fiere Smart City Exhibition, la manifestazione organizzata da Forum PA con Bologna Fiere, diventata un punto di riferimento europeo sulle tematiche dell'innovazione nelle città, insomma delle città intelligente. Noi abbiamo ospite in studio con noi, il direttore operativo di Smart City Exhibition, Andrea Mocchi Sismondo. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo detto un grande ritorno a Bologna Fiere, ormai la quarta edizione, un punto di riferimento per le città intelligenti, o meglio per le città che aspirano a diventare tali, l'innovazione. Il tema di quest'anno, che è la materia prima dell'innovazione, è l'informazione. Sì, abbiamo quest'anno focalizzato, scelto di verticalizzare la manifestazione sul tema dell'informazione e dei dati, perché come dice appunto Goldsmith in un recente libro che si chiama The Responsive City, lui è ex sindaco di Indianapolis e vice sindaco di New York, se tu non lo conosci non puoi governarlo, perché l'azione politica per essere efficace ha bisogno di basarsi principalmente sulla conoscenza. Siamo immersi in un mondo di dati, siamo immersi in un mondo di informazioni, ma trasformare i dati, trasformare l'informazione grezza in conoscenza, è un processo che vede in primis la partecipazione dell'amministrazione e della politica. Quindi in Fiera di Bologna ci saranno i cittadini, ci saranno gli amministratori pubblici, ci sarà la dirigenza della pubblica amministrazione locale e centrale, ci saranno le aziende, per capire insieme come trasformare i dati che abbiamo a disposizione in decisioni politiche e amministrativi efficaci. Ecco, dati e informazione significano, come lo dicevi tu, dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche, per esempio, anche del governo nazionale, più trasparenza e anche servizi più efficienti per i cittadini. Allora, proviamo ad andare un pochino per ordine partendo dall'utilizzatore ultimo, che poi in realtà è anche un attore attivo in tutta questa generazione di contributi e anche il fruitore primario. Per un cittadino il fatto che ci sia l'elaborazione di tutte le informazioni che sono a disposizione si può tradurre in un miglioramento della vita quotidiana in settori particolarmente sensibili e di interesse per il cittadino, può andare dalla sanità al traffico e a tante altre cose. E' così? Quanti codici rossi, quanti codici verdi, quanti codici gialli ci sono in maniera da avere la possibilità di un servizio maggiore. Mettere poi a disposizione del proprio medico curante o della farmacia alla quale poi si andrà a chiedere il farmaco prescritto, la prescrizione fatta dallo specialista o dall'azienda sanitaria, dal servizio sanitario nazionale. Oppure da un punto di vista della mobilità, per esempio la provincia di Trento con OpenMove sta portando avanti un progetto che permette al cittadino attraverso mobile, quindi attraverso uno scambio di dati su rete mobile, di acquistare i titoli di viaggio, avere gli orari, poter capire qual è in quel momento il mezzo pubblico che è più efficace per il tragitto che deve fare, risparmiare, perché poi se noi bypassiamo la carta risparmiamo, quindi poter avere un sconto sul prezzo del biglietto tutto attraverso delle applicazioni mobile facendo viaggiare appunto i dati su rete mobile. Questo per esempio... Sono due esempi esatto che rendono bene l'idea insomma di che cosa può fare l'informazione, questi dati una volta organizzati e che cosa può fare anche il cittadino. Le amministrazioni pubbliche invece come possono utilizzare questi dati e soprattutto a che punto siamo noi nella trasformazione in cose pratiche di questo patrimonio incredibile che sono le informazioni? Noi siamo in un momento in cui abbiamo a disposizione appunto come dicevo prima una grandissima quantità di informazioni, le amministrazioni devono sviluppare diciamo oltre alla liberazione dei dataset che è un processo che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo abbastanza importante, dalle amministrazioni pubbliche locali fino alle regioni fino ai ministeri hanno messo online una serie di informazioni, solo che queste informazioni devono essere interpretate per poi essere di supporto alle decisioni degli amministratori in quel momento o del cittadino che in qualche modo vuole utilizzarlo. Quindi in questo momento c'è un grosso bisogno di interpretazione. Dal punto di vista delle amministrazioni posso fare un altro esempio, da quello più emozionale, quello che sta succedendo per esempio in questo momento all'Urban Center di Bologna, dove attraverso l'installazione Human Ecosystem noi possiamo avere diciamo la temperatura delle conversazioni sui social concentrate su determinati temi e che vengono visualizzate attraverso anche un'installazione che mette insieme il linguaggio informatico con il linguaggio artistico. Le amministrazioni hanno bisogno anche al loro interno di avere persone competenti e formate su questi temi e quindi un altro obiettivo che noi ci siamo dati all'interno di Smart City Exhibition è quello di rendere possibile alla persona avere una prima relazione con la formazione su questi temi. Quindi abbiamo lanciato un'academy che vedrà 4 lezioni di 50 minuti tutti i giorni, al quale si può partecipare gratuitamente e ci sarà una prima introduzione su determinati temi, data meaning, visualizzazione dei dati, data journalism, come fare il giornalismo attraverso i dati pubblici, come trasformare i dati pubblici difficilmente interpretabili in dati processabili, quindi come lavorare sui formati dei dati. Quindi chiunque in questo momento voglia avere un primo contatto con questa professione, non è il data scientist che viene definita dall'economist la professione più cool del decennio, può venire in fiera e poi iniziare a capire quale potrebbe essere un percorso formativo da questo punto di vista, perché c'è un grosso bisogno sia nelle amministrazioni sia nelle imprese di persone che sappiano utilizzare i dati. Non è tanto un problema di produzione di dati, in questo momento siamo pieni di sensori, siamo pieni di azioni di customer care che danno alle amministrazioni, restituiscono alle amministrazioni dati. Cosa farci, come organizzarli, come costruire senso e conoscenza intorno ai dati è un processo che sta iniziando in questo momento. La competenza specifica, come dicevi tu, data scientist, ma ci torniamo subito, ma siccome mi hai dato un appiglio su Lab, quello che c'è a Palazzo d'Accursio, con queste mappe appunto che sembrano più un'installazione artistica, in realtà sono un po' il polso del sentire dei cittadini. Per i territori, soprattutto per le amministratorie locali, conoscere il sentimento, cioè il sentire più che il sentimento, dei propri cittadini è una cosa importante. Viene in mente a Londra, fecero una cosa simile, la chiamarono la mappa della felicità, poi fu più una semplificazione giornalistica perché era una cosa romantica dire che stavano mappando la felicità del cittadino. In realtà ha un po' a che fare anche con questo. Sì, non è solo una questione di sentimenti e felicità, perché da un certo punto di vista può essere semplificato con queste parole, pensiamo all'indice di felicità che era stato lanciato appunto in Nepal, mi sembra. In questo momento siamo alla ricerca di indicatori che possano restituire agli amministratori pubblici, ma alla stessa comunità attraverso gli amministratori pubblici, una fotografia della qualità della vita delle persone. Ci stiamo rendendo conto che il PIL, il prodotto interno lordo, non è più l'unico indicatore che ci può restituire il livello di sviluppo e il livello di prosperità di uno Stato. A partire appunto dalle intuizioni di Amartya Sen, del premio Nobel per l'economia, ma poi pensiamo a come anche l'Italia attraverso l'ex ministro del lavoro Giovannini, il presidente dell'Istat e la commissione Attali che c'è stata in Francia. C'è una grossa azione di ricerca a livello internazionale per capire quali sono gli indicatori che sono la base dell'indice di benessere ecosostenibile. In Italia è partita anche un'iniziativa che si chiama Urbes, che va a misurare il benessere ecosostenibile urbano, che vede insieme Istat e amministrazioni locali. I dati ci aiutano a capire quali sono i dati che dobbiamo analizzare, ci aiuta anche a chiederci qual è il futuro che vogliamo, qual è l'idea di società verso la quale stiamo andando. Ecco, c'è comunque, ripeto, si parla di dati, sembrano sempre discorsi un po' scollegati dalla realtà, quando si parla di dati, metadati e via dicendo. In realtà sono degli strumenti che servono proprio, adesso ne hai parlato tu di ecosostenibilità, però voglio dire, abbiamo l'Expo in questo momento, si parla di crescita sostenibile, si parla di ecologia del nostro pianeta. Grazie a questi dati, all'elaborazione di questi dati e anche all'innovazione, noi possiamo fare qualcosa per salvaguardare il pianeta, sembra una cosa folle, ma in realtà, voglio dire, a partire dal riscaldamento o altre piccole cose, c'è la possibilità, tu mi facevi degli esempi, no? Prima, proprio specifici. Se pensiamo per esempio a che cosa può significare utilizzare i dati che un semplice termometro fornisce al servizio di manutenzione, di facility management del patrimonio immobiliare pubblico, che ci permette di non accendere per forza il riscaldamento quel giorno perché è nel calendario programmato, ma gestire le accensioni, gli spegnimenti, dei riscaldamenti degli immobili pubblici, a secondo di quali sono le condizioni meteorologiche, è una cosa semplicissima, ma che può portare a risparmi ingenti da un punto di vista economico e di emissioni di CO2. o questo, diciamo, da un punto di vista di quella che viene chiamata Internet of Things, l'Internet delle cose, cioè posizionare alcuni sensori all'interno del tessuto cittadino che abbiano, diciamo, diano in real time le informazioni di quello che sta succedendo permette di intervenire sia da un punto di vista di, appunto, di gestione del riscaldamento, ma anche dal punto di vista dei cambiamenti all'interno dei piani di mobilità, ci dà una possibilità di risposta in tempo reale che permette benefici per i cittadini, risparmi, diciamo, economici per l'amministrazione e risparmi energetici per il pianeta. Questo sia, diciamo, in assetti che prevedono la raccolta di dati da parte delle amministrazioni, ma sia anche quando sono poi i cittadini stessi a produrre dati. Pensiamo a quello che viene chiamato il crowd sensing, cioè, diciamo, come la folla è capace di farsi sensore, come il cittadino è capace di farsi sensore. Quindi tutto questo flusso di informazioni e di dati in realtà avvicina le amministrazioni al cittadino. Diciamo che avvicina, sì, all'ascolto di quello che effettivamente accade in città. Se noi pensiamo, per esempio, di scegliere un campione, per esempio, dei ciclisti urbani, delle persone che vanno in bicicletta, che vanno in bicicletta in città, riusciamo a capire esattamente quali sono i percorsi, riusciamo, e se poi li dotiamo, per esempio, di uno zainetto che è capace di misurare il livello di polveri sottili nell'aria, ormai se ne producono a prezzo basso con un pannellino solare che permette di ricaricare la strumentazione e facciamo sì che i nostri cittadini ci diano delle informazioni su come effettivamente nei percorsi della ciclomobilità urbana sono presenti i livelli di inquinamento oppure ci permette di non programmare a priori la ciclomobilità o anche la mobilità stessa su quattro ruote. Ci permette di capire effettivamente sia l'impatto che ha la nostra pianificazione sia preventivamente immaginare quali possono essere poi le soluzioni migliori. Ecco, peraltro nei 50 workshop, incontri, approfondimenti e seminari che ci saranno in fiera a Bologna in occasione di Smart City Exhibition, insomma ci sarà la partecipazione sia degli assessori, insomma dei rappresentanti dell'amministrazione pubblica ma grande importanza viene data proprio alle comunità attive di cittadini che sono poi quelli che già da tempo hanno capito di poter dare un contributo al territorio. Certo, noi lavoriamo come Forum PA lavoriamo da tempo per mettere da 26 anni ormai con la manifestazione romana per mettere in contatto amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese sullo sviluppo di nuovi servizi che abilitino un'azione amministrativa più efficace e più efficiente. In fiera avremo appunto mercoledì pomeriggio 40 assessori dell'innovazione di tutte le principali città italiane, le 14 città metropolitane, le città di medie dimensioni, le città più piccole che insieme cercano di capire come portare all'attenzione del Governo nazionale un'azione coordinata perché quello che in questo momento sta mancando su questi temi è una regia nazionale. Dall'altra parte con una serie di altri eventi dedicati appunto sia a temi legati alla sharing economy, quindi alla partecipazione del cittadino nei meccanismi produttivi della città, ma altri come per esempio giovedì pomeriggio abbiamo questo evento dedicato a data commons, cioè i dati come bene comune. Sono partiti i cittadini per primi a capire che non sono più solo e soltanto fruitori di dati, ma sono produttori di dati. E se questi dati riescono ad essere organizzati in senso anche dalle comunità attive, da quelle che si chiamano appunto la cittadinanza attiva, il cittadino non più come destinatario dell'azione amministrativa, ma come progettista, co-progettatore dell'azione amministrativa. Adesso va tanto di moda a parlare di design dei servizi. I servizi, il nuovo welfare, deve essere disegnato dalla pubblica amministrazione, ma in ascolto. Ecco, hai detto la parola chiave, welfare. Esatto. Sì, se pensiamo appunto come... L'applicazione più importante per un cittadino, insomma, poi alla fine lo stato sociale... Esatto, come capire che cosa sta accadendo, ci può permettere di agire in maniera più mirata sulla programmazione dei nidi di infanzia a strutture collaborative come ludoteche o altri tipi di servizi che non possiamo programmare se non sappiamo su quale territorio vanno a insistere, se non sappiamo quali sono sostanzialmente le dinamiche di un territorio. Certo, tutti questi dati insomma servono proprio per quello. Sì, quindi il nostro diciamo claim quest'anno è dall'informazione alla conoscenza, dalla conoscenza all'execution. Cioè, come far sì che il famoso fare in questo momento è così sotto i riflettori e parta poi da una trasformazione dell'informazione in conoscenza. Ecco, tutto questo movimento che c'è da parte delle amministrazioni locali che comunque sembrano aver recepito l'importanza di questo tipo di approccio può sopperire in parte al fatto che non esista un'agenda nazionale ancora coordinata, insomma non si sia ancora trovato un punto comune e non vorrei metterti in difficoltà. No, no, assolutamente. Assolutamente. Diciamo che trai... Si può andare avanti comunque in questo senso senza aspettare insomma che venga a livello nazionale trovata l'agenda? Non è che si può andare avanti, si deve andare avanti nel senso che obiettivo principe di questa manifestazione è far sì che da sia in maniera bottom up che in maniera top down si dia al tema ma l'attenzione che merita. Noi lo sviluppo delle comunità intelligenti era nel decreto crescita 2.0 del 2012 e prevedeva una serie di step successivi che hanno trovato una serie di ostacoli soprattutto dovuti alla frammentazione dell'azione amministrativa. Sulle Smart City in questo momento pianificano e programmano 3-4 ministeri diversi ognuno con i propri programmi la regia che dovrebbe essere in capo all'Agenzia per l'Italia digitale in questo momento sta avendo un momento di stallo c'è bisogno che appunto si faccia massa critica e quindi diciamo questa nostra anche chiamata degli assessori al quale hanno risposto in una maniera veramente inaspettata ci troviamo appunto decine e decine di assessori che vengono a Bologna da tutte le città principali dalle isole da Cagliari da Palermo da Messina oltre a tutte le città da Milano da Torino da Venezia si trovano a Bologna per fare massa critica e portare questi temi all'attenzione del livello nazionale che necessita probabilmente in questo momento di una spinta dal basso diciamo così se non ero c'è proprio un osservatorio Smart City di Anci cioè dell'Associazione Nazionale Comune Italiane esatto noi da 4 anni lavoriamo in stretto contatto con l'osservatorio Smart City che ha fatto un lavoro ottimo per gli strumenti che aveva a disposizione da maggio 2015 sul portale italianasmartcity italianasmartcity.it ci sono tutti i progetti che le città italiane aderenti all'osservatorio sono le principali città italiane hanno presentato all'interno dei programmi Smart City con i risparmi attesi si parla di un investimento per poi ottenere maggiori risparmi delle città di 4 miliardi su questi temi ecco scusa ti fermo perché questo lo sottolineiamo visto che poi uno pensa digitalizzazione informazione quanto costa muoversi in questo modo in realtà scegliere questa strada significa risparmiare risparmiare i soldi che vengono utilizzati perché niente si fa se non c'è un primo investimento sono soldi che la comunità europea ci prescrive di utilizzare i regolamenti per l'utilizzo dei fondi europei prevedono che minimo il 5% dei fondi strutturali del FESR vengano utilizzati per lo sviluppo urbano per il POM Metro che è il piano operativo nazionale sulle città metropolitane che l'Italia dopo una lunga fase di contrattazione ha approvato con la Commissione europea a luglio di quest'anno prevede l'utilizzo di 892 milioni che vengono dai fondi comunitari per lo sviluppo delle città metropolitane i soldi ci sono in questo momento i soldi ci sono e ce li dà l'Europa il problema è rendere cantierabili i progetti far sì che i progetti inizino ad essere ad avere gambe ad avere gambe e questo è diciamo anche la ragione principale per il quale ci impegniamo così tanto e crediamo così tanto in questa manifestazione perché c'è bisogno che dalle parole si passi alla realizzazione alla realizzazione insomma ci saranno tanti focus e ripeto sono rimasta piacevolmente colpita dalla quantità proprio di assessori e di regioni rappresentanti ma anche di appuntamenti diciamo che poi noi partiamo appuntamento con fior di ospiti ho visto anche un professore di Harvard che parlerà di democrazia è stato il vent'anni fa ha fatto un'importantissima analisi sulle figure di manager pubblici in Italia e diciamo è stato l'estensore del concetto di capitale sociale all'azione della pubblica amministrazione quindi è proprio il faro della ricerca mondiale sulla comparazione tra azione amministrativa e creazione di capitale sociale e siamo molto contenti che sarà con noi giovedì mattina per un incontro appunto dopo dopo questa sua analisi sulla pubblica amministrazione italiana per un incontro con i manager pubblici italiani e il pubblico benissimo io in siamo quasi in chiusura vorrei ricordare il mestiere più cool del mondo il data scientist perché non è così un'idea balzana nel senso che soprattutto per i giovani può essere un'opportunità di lavoro una strada che ha che ha un futuro visto tutto quanto ci siamo detti fino adesso data scientist peraltro c'è un master proprio qua a Bologna è partito sì nella business school dell'alma mater proprio questa settimana la settimana scorsa un master dedicato al data science quindi alla formazione di persone che sanno trarre valore dalla quantità di dati nel quale noi siamo continuamente immersi perché alla fine qualcuno che tutti questi dati li deve interpretare ci vuole sì noi faremo oltre all'academy al quale ti accennavo prima sempre giovedì avremo un convegno dedicato proprio ai nuovi mestieri nel campo dei dati con Formez con l'agenzia per l'Italia digitale con il responsabile scientifico del master di Bologna e una serie di figure per capire esattamente quali possono essere i percorsi professionali per diventare diciamo esperti di dati a servizio delle pubbliche amministrazioni e per capire poi quali sono anche le azioni che le amministrazioni possono fare a supporto dello sviluppo di questa nuova professionalità insomma il fatto che ci siano nuove professioni che per i giovani si aprano nuove strade anche grazie a questo approccio insomma è sempre anche questa una buona notizia una buona informazione bene io ringrazio tantissimo Andrea Mocchi Sismondi direttore operativo di Smart City Exhibition ricordo dal 14 al 16 ottobre a Bologna Fiere e ringrazio anche voi che ci avete seguito da casa è tutto grazie grazie grazie